La città di Agropoli è pronta a vivere un altro lungo weekend di grande sport. Da venerdì 21 giugno a domenica 23 giugno si accendono i riflettori sul campionato nazionale di atletica categoria allievi under 18. Tre intense giornate di gare che vedranno competere tanti giovani talenti a caccia dei titoli nazionali. Sulla pista è intitolata a Pietro Menea presso l'impianto sportivo Guariglia. Sono attesi circa 4.500 persone ad Agropoli tra atleti ed accompagnatori. Sono oltre 2.000 gli atleti gara, per la precisione sono 2.035, 984 uomini e 1.051 donne, in rappresentanza di 329 società provenienti appunto da tutta Italia. In palio ci sono complessivamente 42 titoli equamente suddivisi al maschile e al femminile, comprese le prove multipe. Sarà la 54esima edizione della rassegna, la prima in campania. La città di Agropoli torna a ospitare un campionato italiano dopo che si è svolto quello juniores se promesse la scorsa stagione, stavolta in quella che è la Porta del Cilento, tocca i giovani, gli allievi nati nel 2002 e nel 2003. Le sfide che animeranno lo stadio Raffaele Guariglia si coloreranno di prospettive azzurre perché a livello internazionale manca soltanto un mese al Festival Olimpico della gioventù europea, che dal 21 al 27 luglio si svolgerà a Baku e tornerà ad essere dedicato agli Under-18. Ma qualcuno avrà nel mirino anche gli europei Under-20 in Svezia dal 18 al 21 luglio. Per chi entra quest'anno nella categoria potrà esserci l'obiettivo degli europei Under-18 tra un anno in Italia a Rieti. Le gare inizieranno venerdì 21 giugno alle ore 10 e andranno avanti fino alle 21. Proseguiranno sabato dalle ore 9 alle 20 e 30 e poi domenica dalle 9 e 30 alle ore 14. Sarà possibile anche seguire la manifestazione in diretta video streaming su atletica.tv nelle tre giornate di gara. Vi chiedo di partecipare con entusiasmo a questo evento venendo a trovarci allo stadio e accogliendo nella maniera migliore possibile gli atleti e gli accompagnatori che provengono da tutta Italia. Agropoli si conferma ancora una volta città dello sport. A tutti un augurio e agli atleti che parteciperanno un grande bocca al lupo.